C'è una cosa che non viene mai tenuta in considerazione quando si leggono i libri ed è il fatto che noi percepiamo quello che nella nostra fase, diciamo, evolutiva della nostra vita diamo più importanza o ci toccano di più. Questo cosa significa? Che tu potresti leggere un libro, ad esempio, di marketing e trovare un elemento che ti colpisca particolarmente perché ti rendi conto di essere incredibilmente importante per la tua attività in questo momento e può succedere che dai meno importanza ad altri aspetti, ad altri, diciamo, elementi che magari se tu rileggessi il libro con la stessa attenzione un paio di anni dopo gli daresti un'importanza incredibile, magari ancora di più rispetto a quello letto precedentemente. Il problema però qual è? Che noi, dopo aver letto un libro, difficilmente ritorniamo a leggerlo nuovamente e se lo facciamo, lo facciamo in una maniera molto superficiale quindi ci andiamo a perdere quell'elemento che ad oggi potrebbe essere fondamentale. Per questo il mio consiglio è, quando leggi i libri, di cercare di prenderti delle note a me piace sfruttare le mappe mentali perché sono molto efficaci per prendere appunti e andare a prendere atto anche di alcune cose che in questo momento per il tuo business ti sembrano non troppo importanti ma che in un'altra fase, in un altro momento potrebbero invece fare la differenza. E praticamente tutti i libri che hanno veramente dei concetti profondi hanno, diciamo, questo problema e questo vale sia in ambito business sia in ambito della crescita personale. Quindi oggi ripensa proprio a questo, pensa a quali sono i libri che magari hai letto in passato che ti hanno colpito, prova a riprenderli e a dargli una sfogliata per vedere se c'è qualcos'altro che ad oggi ti colpisce che magari quella volta non l'ha fatto. Ti assicuro che troverai tantissime cose interessanti che prima avevi ignorato. Per cui riflettici attentamente. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, pensa ad un vecchio libro che hai letto molto tempo fa e che ti aveva colpito particolarmente. Ti invito a riprenderlo in mano, sfogliarlo, cerca di rileggerlo e ti assicuro che le cose che ti avevano colpito allora ad oggi probabilmente non ti faranno più nessun effetto perché oramai le hai interiorizzate, le hai fatte tue, ma ce ne potrebbero essere altre che lette ad oggi avranno un impatto molto più importante. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!